La città di Zegna può trarre dall'Europa attraverso il corretto utilizzo dei fondi comunitari risorse importanti per risollevare le sorti delle finanze comunali. Lo afferma il vice capogruppo del PD in Europa, che invita la nuova amministrazione comunale a dotarsi sia della preparazione necessaria che degli strumenti operativi per conseguire obiettivi così decisivi. Siamo convinti che il lavoro importante del sindaco è quello di fare squadra e nel fare squadra c'è bisogno di sapere utilizzare bene e meglio i fondi europei. Utilizzarli bene, correggendo gli eroi del passato e utilizzarli avendo grandissima attenzione alle questioni dell'ambiente. L'ambiente non è un qualcosa da aggiungere nei programmi. Riorganizzazione dei nostri centri storici, trasporti, reti proviali, fogne, sicurezza dei costumi. Sono tutte grandi questioni che un sindaco bravo può affrontarle utilizzando bene e di più i fondi europei. Rita Formichelli troverà, se sarà eletta sindaco, un comune in condizioni finanziarie pressoché dissestate. Che cosa può fare l'Europa con i fondi europei? Davvero un comune può accedere direttamente a questa fonte di finanziamento? Sì, le condizioni del comune purtroppo sono note. Io dico in questa campagna elettorale che i nostri sindaci, Rita lo ha detto presentando il suo programma e più volte nel corso di queste settimane, noi dobbiamo avere tutti e due gli occhi aperti, gli occhi al quotidiano, ai mille problemi che vanno affrontati della nostra gente e poi avere una prospettiva e la prospettiva di sviluppo. E la prospettiva di sviluppo l'affronti utilizzando bene i fondi europei, quelli regionali e quelli nazionali. E ne è perfettamente consapevole la candidata sindaco Rita Formichelli che insieme a Paolucci ha illustrato le linee guida della sua azione in riferimento alla ricerca dei fondi comunitari, ottenibili anche attraverso un'importante certificazione che il comune di Isernia dovrà ottenere. Cercherò di trovare la possibilità di farlo perché penso che questo si possa fare e si debba fare, soprattutto per avere un'attenzione che è stato uno dei punti principali del mio programma all'ambiente. Io quello che ho detto è che bisogna migliorare la qualità di vita. Qualità di vita è sostanzialmente ambiente, ma per ambiente diciamo il termine latino è tutto ciò che ci circonda, quindi dalle strade, dalla pulizia e Isernia purtroppo è carente un po' su tutto. Quindi su questo bisogna lavorare e il mio obiettivo è cercare di arrivare ad ottenere una certificazione EMAS, che è una cosa importante che soltanto due capoluoghi di provincia hanno ottenuto in Italia e significa fare veramente un passo avanti.